Salve ragazzi, oggi ci troviamo qui finalmente per un video sulla build del barbaro Maglio degli Antichi Non è una build definitiva perché sono di livello 81, quindi farò una sorta di guida mid game poi end game quando arriverò a livello 100 che non sarà sicuramente domani anche se hanno bussato i punti esperienza Com'è questo personaggio? È un personaggio che fa un grosso danno, molto molto elevato soprattutto diciamo a singolo bersaglio ma poi non è nemmeno detto è comunque come molti personaggi in questo gioco cioè funzionano al meglio quando c'è una grossa massa ma fa dei colpi critici, probabilmente è il personaggio che fa dei colpi critici più alti come danno in assoluto ha delle cose molto buone e cose negative non è molto mobile, rispetto per esempio al mago che ho utilizzato è molto più lento ha meno safe nel momento in cui veniamo, non so, stunnati, congelati oppure non so, esplosioni sotto i piedi, mostri che esplodono ha delle criticità, fa fatica a schippare, ad uscire da queste situazioni qui però sono riuscito ad arrivare a rift, diciamo scusate, a spedizioni più alte prima del mago pensate che a livello 80 già arrivo a fare 50 col mago non ci riuscivo assolutamente era un fatto di danno che subiva più che altro più che di danno che facevo comunque andiamo a vedere l'albero dell'abilità e poi dopo su quello ci spostiamo a capire un po' il personaggio molti non utilizzano l'abilità primaria io sì, poi vi spiego perché si va a prendere a fondo a fondo è un'abilità che genera 10 di furia ha una probabilità di colpo fortunato del 55% esegue un a fondo e colpisce un nemico infliggendo un tot di danni questo danno qui è calcolato sull'arma che abbiamo poi il primo potenziamento a fondo infligge il 30% di danni aggiuntivi e ti cura del 2% della tua vita massima quando colpisce un nemico in salute e praticamente non è sempre così ma molto spesso e poi i colpi critici di a fondo ti forniscono 1,5 secondi di berserk a fondo cosa fa? qui tra l'altro non c'è nemmeno scritto quando noi facciamo a fondo il personaggio scatta in avanti non diciamo che è un teletrasporto ma è un modo per spostarci anche velocemente tra un gruppo di elite di mostri e l'altro poi andiamo a prendere maio degli antichi che è l'abilità main abbatti probabilità del colpo fortunato 55 costo 66 di furia è tanto abbatti il tuo martello con furia degli antichi infliggendo un tot di danni in un'area concentrata primo potenziamento ottieni il 3% di furia aggiuntiva per ogni 5 secondi per ogni bersaglio aggiuntiva per ogni 5 secondi per ogni bersaglio colpito dal maio degli antichi si accumula per 10 volte quindi otteniamo un 3% per quindi fino a un 30% di furia per ogni 5 secondi che colpiamo col nostro maio maio degli antichi poi l'altro potenziamento è il maio degli antichi infligge l'1% di danni aggiuntivi per ogni punto di furia che avevi al suo utilizzo e questo è molto importante poi anche questo lo vedremo perché poi andiamo sulle abilità difensive si prendono due abilità difensive che è grido di battaglia grido di battaglia è un urlo di difesa che emette un grido di battaglia a un tempo di recupero di 20 secondi emette un grido di battaglia aumentando la tua velocità di movimento del 30% e la generazione di risorse del 60% per 7,4 secondi e degli alleati vicini per 3,7 secondi poi il primo potenziamento grido di battaglia ti rende inarrestabile questo è molto positivo perché noi ci potrebbe far fuggire da delle situazioni complicate ma non è sempre facile perché in realtà noi il grido di battaglia lo emettiamo soprattutto per la generazione di risorse più che per fuggire da delle situazioni il grido di battaglia genera 20 di furia aumenta la generazione di furia questo pure è importantissimo perché noi mettiamo il grido di battaglia ci dà un po' di furia ma soprattutto ce la genera poi andiamo a prendere un urlo di sfida che forse è ancora più importante di grido di battaglia provochi i nemici vicini e ottene il 50% di riduzione di danni per 7,4 secondi quindi i nemici vicini ci vengono addosso li provochiamo e loro ci vengono addosso e quindi ottimizza il maio in più subiamo il 50% di danni in meno è mostruoso ovviamente più va avanti più si passa di livello si manda su di livello è più dura poi mentre l'urlo di sfida è attivo la tua salute è massimamente del 20% quindi ci dà più vita mentre l'urlo di sfida è attivo ottieni 3 di furia ogni volta che subisci danni quindi quando noi subiamo danni recuperiamo furia poi andiamo alle abilità successive che sono quelle di rissa sempre un altro urlo è il meno importante ah tra l'altro scusate grido di battaglia e urlo di sfida sono maxati qui basta un punto emette un potente grido di guerra che aumenta i tuoi danni inflitti il 15% per 7,4 secondi e qui hai degli allati vicini insomma anche quelli degli allati vicini sono sempre ridotti tempo di recupero anche questo è circa 21 secondi grido di guerra ti fornisce berserk per 4 secondi quindi comunque andiamo in berserk se ci sono 6 almeno 6 nemici quando lanci il grido di battaglia ottieni un bonus anni aggiuntivi di un ulteriore 10% quindi in sostanza andiamo ad avere un bonus anni di 15-25% sostanzialmente poi andiamo a prendere le 3 passive la durata dell'effetto delle abilità di urla aumenta del 24% poi le due abilità di urla curano perché qua dice curano anche gli allati quindi ci curano del 3% della nostra vita massima ogni secondo quindi noi quando facciamo le urla veniamo curati mentre le urla sono attive le due abilità di urla riducono i danni inflitti dai nemici del 12% per 5 secondi quando noi facciamo un urlo subiamo meno danni poi ottieni una riduzione del danno del 6% mentre il berserk attivo qui si può mettere io ho messo 2 punti e poi mentre il berserk attivo la regenerazione di furia aumenta del 18% berserk lo otteniamo in diversi modi poi andiamo sulla verità successive combattente della fossa infliggi il 9% di anni aggiuntivi ai nemici vicini ottieni una riduzione da quelli di lontano del 6% quindi facciamo più danni e ne subiamo meno e poi probabilità di colpo critico aumentata del 9% contro i bersagli immobilizzati o storditi o rallentati vedremo anche questo qui perché è importante poi si mette un punto i tuoi effetti di sanguinamento rallentano i nemici del 10% questo è importante mettere un punto qui poi vedremo perché poi si va a prendere 3 punti qui quando usi un'arma a due mani infliggi il 15% di anni critici in più noi utilizzeremo un martello a due mani per forza perché adesso poi ve lo spiego il maio ce lo impone colpo violente le due abilità con armi contundenti quindi è il martello la mazza infliggono il 15% di danni aggiuntivi se il nemico è stordito o vulnerabile poi si va a prendere colera del berserk che è la ultimate tempo di recupero quasi 50 secondi con un'esplosione di rabbia respingi i nemici circostanti ottieni berserk diventando inarrestabili per 5 secondi per i successivi 10 secondi quindi sono un totale di 15 secondi infliggere danni diretti con le abilità base fornisce berserk quindi significa che noi ogni volta che andiamo a fare un attacco base andiamo in berserk automatico mentre colera del berserk attiva la velocità di movimento aumenta del 20% la tua generazione di furia aumenta del 30% quindi generiamo molta furia mentre colera del berserk attiva per ogni 50% di furia consumata i danni aggiuntivi di berserk aumentano del 25% quindi più furia abbiamo più danni facciamo poi si va a prendere l'ultima passiva che c'è le nostre avità primarie quindi il maio infliggono il 135% di danni aggiuntivi ma costano il 100% di furia in più quindi facciamo molto più danni ma costa molto di più è per questo che il martello costa così tanto le abilità del barbaro alcune in specifico richiedono un oggetto specifico in questo caso c'è scritto qui sotto come vedete richiede un'arma contundente a due mani quindi non è che noi possiamo mettere altre abilità quando siamo qui poi il barbaro ha delle specificità che sono l'assegnazione delle abilità questo adesso ve lo faccio è molto importante per la perizia la perizia si apre con shift c eccola qua questo è il menu della perizia la perizia cos'è quando noi utilizziamo un'arma praticamente portiamo su un bonus alla perizia dell'arma che abbiamo utilizzato vi faccio un esempio se noi mettiamo la perizia delle mazze a due mani quando usi usi mazza a due mani colpo fortunato fino al 10% di probabilità di ottenere due di furia colpendo un nemico quindi 10% la furia ottenuta raddoppia mentre sei in berserk infliggi il 15% di danni critici aggiuntivi a nemici storditi vulnerabili mentre sei in berserk però perché però ce l'ho solo a 3 perché io oggettivamente ho sbagliato e comunque fino a questo punto forse era meglio utilizzare l'ascia a due mani che dice quando usi un'ascia a due mani infliggi il 15% di danni aggiuntivi a nemici vulnerabili e la probabilità di critici contro i vulnerabili è aumentata del 10% quindi è molto però si mette questa che dice quando usi una spada a due mani per adesso è così il 6% di danni diretti inflitti viene inflitto come danni da sanguinamento per 5 secondi ci dice poi che quando arriviamo al bonus aggiuntivo grado 10 il 30% di danni da sanguinamento aggiuntivi per 5 secondi dopo aver ucciso un nemico quindi noi quando facciamo quando picchiamo sostanzialmente noi facciamo danni da sanguinamento sempre e questo pure è molto molto importante mettere questa abilità qui come si fa ad utilizzare perché il barbaro va in giro con diverse armi come facciamo ad utilizzare quell'abilità o una quella arma o un'altra quando andiamo sopra all'affondo vedete qua sotto c'è scritto selezione delle arsenali non ci posso andare con la freccia perché se no va via selezione arsenali vedete che ci hanno 4 igone è ciclica le due armi incrociate una mazza si vede una spada diciamo che sta facendo un movimento questa qui si sposta premendo il tasto della rotellina non la rotellina cioè non facendo scorrere la rotellina ma proprio il tasto premendo il tasto numero 3 diciamo sarebbe del mouse io l'ho impostata per esempio qui per quale motivo perché se andiamo sugli oggetti che poi è quello che andremo a vedere adesso vedete qui sopra ci dice che questa qui vedi arma due mani queste sono le due armi e questa qui è diciamo quella a destra essendo che io devo aumentare la perizia delle armi a due spade scusa delle spade a due mani devo andare a mettere questa arma qui quindi devo utilizzare questa arma qui per aumentare il grado altrimenti il grado non aumenta non basta picchiare col maio perché noi dobbiamo utilizzare una spada a due mani per portare su quella perizia lì ok andiamo a vedere il personaggio non è perfetto tutto forché perfetto però è un buon personaggio sull'elmetto ho messo per adesso armatura totale furia massima tempo di recupero ridotto e tutte le caratteristiche non è male sarebbe da mettere a posto tutte le caratteristiche vita massima perché in realtà il barbaro ha un po' bisogno di vita massima aggiuntiva rispetto a quella che poi riusciamo ad avere passando di livello però è importante avere furia massima e tempo di recupero ridotto quello sicuramente per la furia è molto importante e questo è buono perché io in questo personaggio ho armatura totale furia massima quasi maxate e tempo di recupero buono tutte le caratteristiche sarebbero da cambiare in futuro forse lo farò come aspetto ogni punto di furia generata quando sei al massimo livello già quando siamo arrivati al massimo della nostra furia fornisce 25 di fortificazione la fortificazione anche qui è abbastanza importante poi armatura torso riduzione di danni dai nemici sotto effetto di sanguinamento e questo è importante perché noi applichiamo sanguinamento in due maniere ma comunque anche con la nostra perizia poi riduzione di danni dai nemici lontani armatura totale ci è avuta malissimo riduzione dai danni durante fortificazione non saremo sempre in fortificazione questa armatura non è un grangue dovrei cambiarla però per adesso ho questa e come infusione ho messo ottieni il 0,4% di armatura fino a un massimo del 40% quando facciamo danni per aumentare la nostra armatura sulle sulle parti di armatura sui castoni vanno messi gli zaffiri che dice riduzione di danni durante la fortificazione quindi sarebbero ne sarebbero 5 sono un 15% di riduzione di danni quando siamo in fortificazione guanti queste sono uscite abbastanza bene probabilità di colpo critico 4 al maio degli antichi probabilità di colpo fortunato e velocità d'attacco sono uscite abbastanza bene oggettivamente non sono per niente male e anche il valore il potere oggetto è abbastanza buono anche proprio le stat che mi sono uscite sono buone a parte probabilità di colpo fortunato che è un po' bassa ma potrei rerollarlo il resto è uscito bene poi i nemici lontani hanno una probabilità dell'8% di essere storditi per 2 secondi quando ti colpiscono e noi infliggiamo il 32% di danni aggiuntivi ai nemici storditi quindi comunque è un safe per chi ci spara da lontano poi protezione per le gambe armatura totale 9% tutte le caratteristiche 14 malissimo però purtroppo questo so riduzione di danni durante fortificazione e danni ridotti qui pure potrebbe uscire meglio dovrei avere sicuramente o una su tutte le caratteristiche sarebbe meglio una forza oppure magari una riduzione di danni dai nemici vicini sicuramente anche riduzione di danni durante fortificazione sarebbe meglio riduzione di danni dai nemici lontani però mi è uscita così ah tra l'altro sulla corazza sarebbe da mettere magari togliere riduzione di danni durante fortificazione per mettere più 4 a urlo di sfida sicuramente meglio sicuramente meglio poi ottieni una riduzione del danno del 2% questo mi è uscito malissimo però ce l'ho per ogni nemico vicino sanguinante fino a un massimo del 10% quindi se fosse stato migliore sarebbe una riduzione del danno del 4% per ogni nemico vicino sanguinante fino a un massimo del 20% quindi potremmo avere un 20% di riduzione del danno nel momento in cui i nemici sanguinano e noi faremo sanguinare sicuramente con la perizia poi gli stivali non sono usciti benissimo anche questi dovrei sostituirli tutte le caratteristiche generazione fortificazione volontà riduzione costo furia qui va sicuramente riduzione costo furia va bene fortificazione va sicuramente messa velocità di movimento e anche forse volendo velocità di movimento dopo averci su un'elite comunque è sempre meglio che in volontà forza come infusione come affisso mentre sei inarrestabile quindi diciamo quando facciamo un urlo quando facciamo il grido di battaglia o berserk sostanzialmente quando sei inarrestabile e per per 4 secondi al termine dell'effetto la 2 velocità di movimento aumenta del 19% e poi muoverti liberamente tra i nemici quindi ci permette di muoverci meglio una volta che è finito un urlo insomma che scusa che siamo scusate che ho finito di essere che abbiamo finito di essere inarrestabili poi una delle 4 armi questa è importante è la più importante perché è il main damage è quella con cui facciamo danno una mazza a due mani ha danni a sopraffazione non serve un gran danno a sopraffazione ma è così qui va messo fondamentalmente io ho danni a nemici vicini forza danni a nemici vulnerabili e danni critici qui più o meno ci siamo si potrebbe mettere anziché danni a nemici vulnerabili danni a nemici rallentati ma comunque è un buon oggetto uscito abbastanza bene e qui va sempre messo l'onda d'urto di maio degli antichi si espande e avanza infliggendo l'84% dei danni dei nostri danni ai nemici insomma ai nemici intorno ovviamente io associato l'84% sarebbe da portare al 100% comunque sulle armi su tutti i castogni va messo lo smeraldo che aumenta i danni critici a nemici vulnerabili aumentano di brutto se pensate che ne sono 2, 4, 6 smeraldi sono 70 il passapersento di danno critico poi le spade qui vanno messe tutte le spade perché le spade aumentano i danni critici quindi 24% e mezzo di danni critici poi io ho qualcosa da togliere qui quindi non sono rollate benissimo il danno di questi oggetti non conta quindi il potere oggetto è solamente per aumentare la forza dell'oggetto danni a sopraffazione ho io che non serve a nulla andrebbe rerollato ma ho già l'oggetto da cambiare ma devo ancora aspettare danni ai nemici vicini va bene danni ai critici va benissimo danni a avilità primaria vanno comunque bene poi i colpi critici con l'avilità primaria aumentano la velocità d'attacco del 24% molto importante perché picchiamo più velocemente ma soprattutto quando andiamo con l'avilità base siamo più veloci per ricaricare la nostra furia l'altro potere oggetto già un pochettino meglio questo oggetto se non sbaglio è meglio danni ai nemici vulnerabili danni ai nemici sotto effetti rallentamento danni critici e forza allora qui sicuramente va sempre danni critici va sempre assolutamente messa come abilità poi va messo sempre la forza quindi danni critici forza poi nemici rallentati e vulnerabili questo sarebbe il massimo quindi vulnerabili rallentamento critici forza questo è perfetto quindi questo va benissimo da quest'altra parte noi invece abbiamo vicini critici e primaria quindi non va un gran che bene andrebbe sostituita effettivamente poi l'ultima arma che è un'arma a due mani quindi l'effetto va moltiplicato sempre danni critici aumentati essendo un'arma a due mani è più alto qui ho forza danni dell'abilità primaria vulnerabili sotto effetto di rallentamento anche qui non c'è danni critici ma è comunque una buona arma 3 stat su 4 e l'abilità è ogni furia generata quando sei già al livello massimo quindi quando siamo al massimo della furia la tua abilità primaria successiva quindi il nostro maglio inflige il 4% di danni aggiuntivi fino al massimo del 60% questa è maxata ottima ci fa fare un botto di danni poi anelli allora qui ok questo è quello perfetto che ho serve probabilità di colpo critico danni a colpo critico generazione risorse e furia massima le stat sono perfette non è maxato l'oggetto perché proprio da colpo critico sta più o meno a metà la generazione risorse è maxata danni critici è molto alto furia non molto però va sempre messo le habilità di urla generano da 2 a 4 io o 3 di furia ogni secondo mentre sono attive quindi quando noi spariamo un urlo ci genera furia l'altro anello non è nello stesso ottimo come quell'altro ma comunque buono furia massima danni critici danni sotto effetto di rallentamento colpo critico quindi sarebbe una generazione risorse anziché danni sotto effetto di rallentamento e questo sarebbe importante generare risorse poi ogni volta che attivi un'abilità di urla il suo tempo di recupero viene ridotto di 1,5 secondi per ogni nemico vicino fino a un massimo di 6 secondi importantissima senza queste due ma soprattutto questa non andiamo praticamente da nessuna parte e l'amuleto non ce l'ho buono come sempre l'oggetto più difficile da trovare ce l'ho rollato malissimo poi tra l'altro è bassissimo di livello però ho un amuleto nuovo da sostituire se non sbaglio dovrebbe essere proprio questo qui sì esatto non è ottimo nemmeno questo però quantomeno questo ha riduzione costo furia e due l'abilità di difesa che è quello che ci serve poi una delle due abilità lì tra dominio delle armi e destrezza credo sicuramente dominio delle armi lo andrò a sostituire sperando di mettere dentro qualcosa di utile questo qui che ho adesso ha riduzione di danni ai nemici vicini uno al grado di difesa che è comunque basso forza 7,2% è buono e tempo ridotto tempo di recupero è buono ma è minimizzato cioè bassissima quindi diciamo ha tre stat ma di cui l'abilità di difesa è uno su tre e le altre due sono buone anche le altre su tutte e tre buone però è comunque bassa e l'oggetto è di livello molto basso ovviamente sui gioielli vanno messi sempre dei teschi andiamo sui paragon allora punti d'eccellenza partiamo dal primo albero andiamo veloci perché comunque sono molti si va molto veloce qui andiamo su si prendono tutti e 4 perché qui c'è vita massima danno fisico e vita massima quindi si prendono tutti qui già si prende guardate danno fisico più 20% e vita massima più 4 si va su poi si va da quest'altra parte perché si va qui vedete andiamo a volontà si sterza sopra la forza poi si va sopra e si va a prendere schiacciamento per ogni 5 punti di forza acquistati e apportati infliggi il 4,1% di danni aggiuntivi usando una mazza se usi una mazza e lo facciamo infliggi il 30% di danni da sopraffazione aggiuntivi questo serve a poco però abbiamo 70% di forza perché siamo andati qua perché dobbiamo prendere tutti i punti di forza ogni punto di forza è 4,1% di danni con le mazze e infatti è 57% di danni con le mazze quindi andate a prendere tutti i punti di forza che abbiamo qui a radio prendete anche queste due perché qui è armatura più 50 armatura più 200 e 10 di forza in più c'ha danni con le mazze 8,2% e questo è assolutamente necessario poi andate su e andiamo al secondo alla seconda pagina la seconda pagina è quella purtroppo come sempre non ce la dici dove c'è l'araldo della guerra partiamo qui andiamo vedete andiamo direttamente fino a quassù velocemente e andiamo a prendere il nodo il nodo in questo caso è opportunismo per ogni 5 punti di destrezza acquistati a portata infliggi 3,2% di anni aggiuntivi ai nemici vulnerabili quando un nemico viene ferito da te diventa vulnerabile per 3 secondi può attivarsi solo una volta ogni 20 secondi per nemico comunque noi una volta reso vulnerabile di solito non campa molto quindi i nemici vulnerabili più 31% e abbiamo la seconda abilità qui tutti i punti di destrezza a portata quindi si vanno a prendere tutti i punti di destrezza che sono questi 3,2% vedete per ogni punto si va a prendere questi 2 qui sotto che da resistenza a tutti gli elementi non serve a niente ma qua sotto comunque ci da 10 di furia questi 2 punti qui non sono convinto si potrebbero anche togliere oggettivamente perché è vero che c'è 10 di forza ma comunque sono un aumento di resistenza che conta oggettivamente poco diciamo poi si va a prendere questi punti di qua che invece sono molto importanti perché sono danni fisici tutti i danni fisici questi qua e destrezza qua sotto quindi qua assolutamente vanno presi poi si va sopra si va a prendere sempre la destrezza qui si va sopra e poi si fa tutto il giro perché si va a prendere intanto qua tutta furia massima e furia per uccisione che è importantissima furia per uccisione e furia massima poi si prosegue qua non si va anche se qui per esempio si potrebbe tranquillamente togliere 2 punti qua e andare a prendere questi 2 che da vita massima più che altro questo che da 2 vita massima l'altro no poi si scende sotto si va a prendere leggendario per ogni 75 di furia consumato ottieni il 12% della tua vita massima quindi come fortificazione quindi ci aumenta la fortificazione quando consumiamo 75 di furia e si va a prendere questi nodi qua sopra che è generazione fortificazione la build praticamente funziona grazie ai nodi è importante quindi generazione di fortificazione e danni durante fortificazione importantissima poi si va via si va alla terza pagina la terza pagina è quella dove c'è il nodo della tecnica impeccabile qui si va si scende sotto direttamente a prendere questi nodi magici danni critici danni critici danni critici guardate tutti i danni critici danno da fisico scusate danno fisico danno critico danni critici danno da fisico spaventoso si va sopra fino a qui a prendere il nodo successivo che è territorialità territorialità ci dice per ogni 5 punti destrezza acquistati a portata infligge il 7,5% di danni aggiuntivi ai nemici vicini poi i danni sono ridotti al 10% contro i nemici vicini per ogni se arriviamo a 25 destrezza quindi in totale facciamo un 51% di danni ai nemici vicini e abbiamo un 10% di danni subiti in meno dai nemici vicini si va a prendere ovviamente qua su danni critici con armi a una mano non serve a niente ma purtroppo dobbiamo prendere questo set di destrezza questi qui sotto non servono a nulla perché sono armi a una mano si va di qua riduzione ai nemici vicini volontà va bene riduzione ai nemici vicini 9% guardate tutto riduzione ai nemici vicini molto importante qui poi si prende ovviamente tutti i punti di destrezza e si passa dritti alla pagina successiva in cui qui ancora però devo aumentarla perché ci sono arrivato adesso qui si va dritti dritti a prendere il nodo qui si mette maresciallo che ci dice fornisce un bonus del 95% con tutti i nodi magici a portata quindi oggettivamente io non ho nulla ancora devo prenderli e dopo aver lanciato un'abilità quando arriviamo a 40 di forza dopo aver lanciato un'abilità di urla il tempo di recupero attivo di ogni altra abilità di urla si riduce di 1,2 di 1,2 secondi questo è importantissimo ci svolterà il personaggio ma ancora dobbiamo piazzarlo e qui i nodi magici avvicini sono mostruosi considerate che il 95% di 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 bonus quindi li raddoppia riduzione dei nemici vulnerabili quindi da 2 passa a 4 2 passa a 4 volontà passa a 14 anche se qui quello che ci serve a noi è la forza questo qui forza da 10 passa a 20 riduzione dei nemici vulnerabili passa a 8 riduzione dei nemici vulnerabili di 4 volontà non lo andremo a prendere e poi si passa da quest'altra parte c'è danni ai nemici vulnerabili danni ai nemici vulnerabili guardate destrezza sicuramente perché no no destrezza no scusate perché è con la forza anche qui 10 di forza qui pure arriveremo a 20 danni ai nemici vulnerabili pure qua arriveremo a 20 e danni ai nemici vulnerabili quindi un bonus bello tosto io direi di avervi fatto vedere tutto vi faccio vedere un secondo una piccola dimostrazione di come va il personaggio adesso non apro una spedizione perché poi probabilmente farò delle spedizioni in cui vi mostrerò la potenza del personaggio a seconda di quello che riesco a fare quindi almeno quando arriverò sopra a un 50 55 almeno di diciamo di quello che riesco a chiudere di spedizione che riesco a chiudere ok guardate abbiamo minima furia urlo ora della furia va al massimo e boom vedete martellata martellate sono mostruose facciamo colpi critici veramente veramente di livello alto guardate urlo boom vedete 3 milioni di colpo critico i colpi critici sono spaventosi se considerate che io col mago facevo 280 300 mila di colpo critico qua ne faccio 4 milioni è vero che è diverso non riesco ancora a capire se sono chi è più forte di due perché ovviamente il mago ice shard che ho è di livello diverso però sembra promettere molto bene come personaggio io spero di essere stato chiaro e preciso ci vediamo per prossimi video probabilmente sul barbaro o su qualcosa su qualche feature insomma del gioco grazie per la visione e arrivederci